C'è uno strano e sereno in giro queste sere per l'aria, uno strano silenzio tra le pieghe di questi giorni, tra le righe di queste ore, minuti, secondi. Una sorta di pace lontana che si fiuta nell'aria, ma il vento disperde i nostri pensieri, dirada le nostre anime. Cerchiamo spazi nell'infinito, parliamo, interroghiamo il cielo. Parafrasare gli stati dell'animo, mettere per iscritto ciò che in un periodo di emergenza come quello attuale tormenta la mente dell'uomo, rappresentare con i versi di una poesia lo stato di tensione, di attesa e il silenzio che avvolge la generazione del Covid-19. Tutto questo è capace di generare un componimento poetico, Tutto questo vuole destare l'autore della poesia sul coronavirus, Antonio Tarsi. Docente di materie letterarie storiche, giornalista, membro del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani, nel tempo è stato autore, giusto per nominarne alcuni, del cinema di Paolo e Vittorio Taviani, ma anche San Giuseppe da Copertino, nel cinema e nel teatro, oltre che alla confluenza di due fiumi poesie, nonché meraviglie di Fra Lucio da Corsano. E mentre il silenzio invade le strade, c'è chi, come Antonio, con il proprio componimento, vuole lasciare alle generazioni future le sensazioni di un'emergenza che pervade la gente, che intanto resta a casa. E tu ed io, tutti noi come ogni giorno, ogni sera, ogni notte, ogni mattino, restiamo a casa, restiamo a casa, restiamo a casa.